Ore 9, parcheggio coperto a Lecco. Un tossicodipendente era annicchiato in un angolo, circondato da stracci e da pattumiera, si inietta una dose di eroina. Non è una scena tratta dai ragazzi dello zoo di Berlino, ma quanto accaduto oggi a due passi dal centro città. Chi si è trovato davanti a questo triste spettacolo ha chiamato le forze dell'ordine e i responsabili del parcheggio. Il consumo di eroina, che negli anni 70 e 80 del secolo scorso ha decimato una generazione, sta tornando prepotentemente a Milano. È ormai una realtà conclamata, a partire dal noto bosco della droga a Rogoredo. Anche in città però torrono a vedersi le siringhe abbandonate nei luoghi dove i disperati bivaccano. La scorsa settimana i carabinieri hanno arrestato l'ennesimo spacciatore nei boschi della superstrada 36 a Bosisi Oparini, nel supermarket della droga. Si parla di migliaia di clienti ogni giorno, la sostanza più diffusa è senza dubbio la cocaina, lo denotano i sequestri e il numero di consumatori intercettati durante le perquisizioni. Lo scorso sabato però il 22enne fermato aveva con sé ben 150 grammi di eroina, un quantitativo ingente considerato che si tratta di centinaia di dosi. Già negli scorsi mesi l'eroina era tornata a circolare anche fra i giovanissimi, spesso consumata per inalazione. Ricordiamo a questo proposito l'appello accorato del procuratore generale Antonio Chiappani e ora però torna l'incubo dalle siringhe. E la scena che questa mattina si è consumata in centro suona anche per la nostra città un preoccupante campanello d'allarme. Grazie. Grazie. Grazie.